E ora parliamo di volley femminile con un ospite che è qua nel nostro studio, Agata Tellone, libero del volley off anengo. Buonasera, benvenuta. Buonasera, grazie mille. Allora, lo sappiamo, lo diciamo già da qualche giorno, questo weekend ricomincia finalmente il campionato di A2 femminile. Tu sei una nuova arrivata del volley off anengo. Come ti stai trovando? Come è andato l'ambientamento con le tue nuove compagnie di squadra e con ovviamente il Palacoime e tutti gli ambienti del volley di off anengo? E innanzitutto è detto giusto finalmente perché siamo reddici da una pausa bella lunga, come dire, quest'anno siamo state ferme quattro mesi quindi tutte non vediamo l'ora di ricominciare. E devo dire dopo due mesi con la nuova squadra, devo dire che mi sto trovando veramente bene, siamo un gruppo molto affiatato, soprattutto perché siamo tutte ragazze più o meno della stessa età, tutte molto giovani e per quanto ho avuto modo di osservare fino ad ora, tutte con tantissima voglia di lavorare, tantissima grinta e che essendo un gruppo giovane magari mancando un pochino di esperienza compensa e ci dà, come dire, la grinta giusta per affrontare partite anche molto importanti come sarà la prima di campionato contro Trento. Ecco infatti proprio lì volevo arrivare, una partita con Trento, Trento che ha un allenatore Davide Mazzanti che il nostro territorio conosce bene perché è allenato Casal Maggiore, è una squadra ambiziosa, però voi l'affrontate in casa al Palacom che spesso tende a fare la sua parte nelle partite casalinghe. Cosa significa affrontare già alla prima partita una squadra di questo tipo? Sicuramente intanto giocare contro un allenatore del calibro di Mazzanti è sicuramente emozionante perché ci si confronta con una realtà importantissima come è Trento. È molto emozionante e molto stimolante perché confrontarsi con avversari così forti comunque sulla carta rientrano fra le favorite è uno stimolo enorme anche da questo punto di vista. Sicuramente giocare in casa ci aiuterà perché è un ambiente che conosciamo, poi con il supporto dei nostri tifosi, sicuramente ci sarà una bellissima atmosfera. Ecco, tra l'altro a proposito di voi, a proposito del Palacom, c'è stato un test di pre-season, mi viene da definirla così importante, parlo del trofeo Bressan, voi siete arrivati in finale, poi ha vinto ancora una volta Brescia che ormai è diventata un po' la regina di questo Memorial, però quali sono state le sensazioni qua? Per esempio vediamo la partita prima della finale, quindi quella con Casal Maggiore, però le sensazioni di già entrare in campo, che sensazioni avete avuto, che sensazioni hai avuto? Ma allora, la partita contro Casal Maggiore, che è quella che si vede qui in questo video, secondo me è stata una delle nostre migliori prestazioni in questo pre-season. Diciamo che siamo riuscite a trovare il nostro ordine in campo, i nostri equilibri e sì, comunque Brescia si è meritata la vittoria perché hanno giocato un'ottima pallavolo contro di noi, poi hanno comunque un'ottima squadra quest'anno che può fare molto bene, però secondo me, ripeto, abbiamo messo in campo una bella pallavolo in questo trofeo. Ecco, tra l'altro abbiamo nominato Casal Maggiore, ma è anche vero che Casal Maggiore è nel girone A, nel girone B c'è l'Esperia. Sarà un po' un anno importante per il territorio di Cremona perché ci sono tre squadre del territorio, quindi una prima volta storica. Ecco, avere un derby comunque aiuta un po' anche a creare un po' di aspettativa sul campionato, sulla partita. Cosa significa per voi avere un derby, insomma, due quest'anno? Cosa speciale anche per voi, immagino. Sì, il derby è sempre un momento un po' più emozionante delle altre partite, comunque è sempre lo scontro più sentito anche magari dagli spettatori, quindi mette sempre un'energia e una carica particolarmente positiva giocare un derby. Sicuramente stimolante, infatti. Sì, moltissimo. Ecco, tra l'altro abbiamo visto qualche immagine, un ruolo di libero, nel tuo caso, ha sempre comunque delle aspettative in più, delle responsabilità importanti. Tu come affronti il pre-partita? Hai qualche rito scaramantico, per esempio, con una curiosità che magari sono interessati i nostri telespettatori a casa? Sulle responsabilità dici benissimo, è proprio vero. E riti scaramantici ha la classica routine del pre-partita, sempre nel stesso ordine. Musica obbligatoria, certamente. E poi è un ordine che mi sono data io per, come dire, ottenere un po' di tranquillità e sicurezza, che sono fondamentali per prima di entrare in campo, perché, come hai detto, appunto, il mio ruolo di ordine... Sangue freddo. Esatto, di sangue freddo, di responsabilità, quindi è necessaria un po' di calma. classe 2002, vogliamo parlare anche un po' di quello che è... se ti sei dato qualche obiettivo personale per questa stagione. Allora, sì, sicuramente vorrei confermarmi, se si può dire, nella categoria, perché sono al mio quarto anno di A2 e ci tengo comunque a, come dire, confermare il lavoro che ho fatto fino a questo momento. spero sia stata una progressione positiva e poi, vabbè, per questa stagione ovviamente si punta a fare il massimo come tutti gli anni. Dal punto di vista personale, ripeto, quello a cui tengo di più è confermarmi positivamente nella categoria. Ecco, tra l'altro, per Offanengo, lo staff tecnico, ormai erodato, Coach Bolzoni, è un allenatore che dà anche spazio tante volte a magari delle scommesse, però è un allenatore capace a crescere le sue giocatrici. Ecco, com'è stato entrare in sintonia con lui, imparare già da subito magari qualcosa, imparare a conoscere un allenatore come lui? Che consigli ti dà, se vogliamo magari sbilanciarci un pochino, anche se sono un po' dei segreti del coaching staff questo? Allora, spiegare il metodo di allenamento è sempre un po' complicato. Io posso dire che mi sto trovando molto bene con Giorgio, mi piace moltissimo il suo modo di lavorare in palestra, perché si lavora a ritmi molto serrati e secondo me è fondamentale. Ti prepara al ritmo partita. Esatto, ti prepara al ritmo partita, hai detto perfettamente. E' bello che ci siano comunque allenatori così, perché per noi giovani soprattutto, perché posso definirmi ancora giovane. Giusto, giusto. E' bello riuscire ad avere spazio anche in realtà importanti di Serie A, come può essere Offanengo, posso nominare altre squadre che comunque utilizzano questo approccio. Però, ripeto, per noi giovani è sicuramente un'opportunità enorme. Ecco, poi ricordiamo, insomma, campionato di A2 Offanengo, quindi Serie A del Valle Italiano, in un'annata in cui, tra l'altro, il Valle Femminile Italiano ha vinto una cosa chiamata medaglia d'oro alle Olimpiadi. Quindi, insomma, è un livello già di per sé altissimo quello del campionato italiano. È bello vedere che ci si dà degli obiettivi, ma c'è anche un livello molto alto che aiuta anche a migliorarsi, sia individualmente che a livello societario, perché anche Offanengo sappiamo che sta tentando di alzare l'asticella di questo suo permanenza nella categoria dell'A2. Sì, Offanengo in questi ultimi anni in cui ha militato nel campionato di A2, ha sempre fatto un passo più avanti rispetto all'anno prima, che è una delle motivazioni che più mi hanno convinta a venire a giocare a Offanengo. E sì, parlando del livello, quest'anno, a parte la medaglia d'oro alle Olimpiadi, che è stata qualcosa di... Utile, un po', bello per tutto il movimento. Esatto, bellissimo, meraviglioso. E secondo me anche il livello del campionato di A2 quest'anno è salito rispetto all'anno scorso. Infatti sarà un bellissimo campionato. Sarà un bellissimo campionato anche da seguire, sia dal vivo, vi invitiamo sempre a seguire le squadre del territorio nei palazzetti per vedere un bello spettacolo. Sarà bello da seguire, ovviamente, da casa e ovviamente ci sarà CR1 in prima linea per raccontarvi un po' questa stagione del volley femminile. Agata, grazie mille per essere venuta qua oggi. Grazie a voi. Grazie a voi.